Nel cuore dinamico di News Mix Up, vi chiediamo di mettere un mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale prima di scoprire l'ultima notizia esplosiva. Il vostro sostegno è fondamentale, permettendoci di mantenere la capacità di produrre notizie aggiornate gratuitamente ogni giorno soltanto per voi. Grazie di cuore. Oggi si apre con una notizia dolorosa nel panorama del giornalismo italiano, poiché ci lascia una rinomata giornalista e speaker radiofonica a soli 50 anni. La sua prematura scomparsa ha scosso amici e colleghi in tutta Italia, poiché sembrava trattarsi solo di un piccolo malore temporaneo. La sua vita, purtroppo, è stata troncata ingiustamente, nonostante fosse amata e rispettata da tutti, grazie alla sua straordinaria carriera. Prima di svelare l'identità di questa giornalista, ti invitiamo a cliccare su mi piace e ad iscriverti al nostro canale, attivando la campanella. Questa celebre professionista ha contribuito a testate prestigiose come RTL, ADN Kronos, il quotidiano L'Inchiesta e Radio X in Austria. Oggi dobbiamo dire addio a questa talentuosa figura che ha dedicato anni al giornalismo nazionale e al quotidiano La Provincia. È deceduta nella notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, all'età di 50 anni, dopo una lunga lotta durata 20 giorni a seguito di un grave malore che l'aveva colpita l'8 settembre scorso. Nonostante gli sforzi dei medici, la morte la sorpresa alle prime luci dell'alba di oggi. Valentina Prato, originaria della provincia di Varese ma residente a Cassino da molti anni, ha dedicato la sua vita al giornalismo di alta qualità. Recentemente si era concentrata sull'organizzazione di eventi musicali e concorsi canori. Grazie per averci seguito e ti invitiamo a non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti. Resta in attesa del prossimo video.